Con delibera di giunta numero 52 2022 si è approvata la partecipazione del Comune di Castellabate al progetto di violenza di genere. Il Dipartimento per le pari opportunità ha pubblicato un bando per finanziare progetti di informazione e sensibilizzazione rivolti alla prevenzione del fenomeno della violenza di genere volte al rafforzamento delle reti territoriali antiviolenza. Il Comune di Castellabate, molto sensibile alle tematiche di violenza di genere, parteciperà a questo progetto per ottenimento di fondi al fine di incrementare la sensibilizzazione della collettività sul tema della violenza di genere e garantire un valido supporto alle reti territoriali antiviolenza. Da sempre sensibili al tema della violenza di genere e consapevoli dell'importanza del ruolo della donna nella società attuale, abbiamo deciso di partecipare a questo progetto che ci permetterà di offrire un valido aiuto e di sensibilizzare ancora di più la cittadinanza su queste tematiche assai importanti e delicate, afferma il sindaco Marco Rizzo. Le reti territoriali antiviolenza aiutano concretamente le donne vittime di violenza e i loro figli. Riuscire a rafforzarle equivale a migliorare il supporto che viene dato alle donne vittime di violenza e ai loro figli. Ritengo inoltre che non sia mai abbastanza parlare di violenza sulle donne. Bisogna continuare a sensibilizzare tutti per evitare che ancora donne cadano vittime degli uomini, dichiara l'assessore alle pari opportunità a Mariana Carbutti.